No ma me la puoi fare Ma perché? Che faccio? Tirami quella rossa che è la piuttura Oh ma prima veramente hai tirato quella Quella sbagliata, non credo? No ma c'è una rossa Che tappione sceglie la panna da giocare Ah si? E' la sua prelocativa Si si Ma per non dire che ho fatto il pallonetto Non ti devo 3 punti 3 punti Vuol dire che l'ha proveniente Però pure il pallonetto ha fatto Beh il pallonetto diciamo che Ha fatto un colpo sotto Il cucchiaio Bravo 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 Il culo compagno Questa è la classica pallaccia Però Massimo potrebbe essere un colpetto sorpreso Eh? Oh bro Almeno questa devi vincere ragazzi Guarda Non mi impegno per far perdere l'Ariano Perché non è possibile Ma lo so E' per compagno La rossa La rossa La rossa C'è una coesione di squadra che fa paura La prossima volta abbiamo a fare un Ma quindi loro stanno in vantaggio? Un ripasso sul colore Ma a proposito di che? E allora perché la ti va a lui? Ma poi vantanara Mi piace Chi? La polivianica Cioè Vantanara Wanda si chiama Wanda Si chiama Wanda Io gli darei Ma i rossi siete voi? E allora il rosso è la pallavolta Perché ti hai dato avanti una rossa? Noi chiediamo la pallavolta La nostra palla è la rossa Oddio Quattro bianchi Ragazzi Mi dispiace Non ce n'è Non ce n'è Non ce n'è Niente Poi ci stai La rossa è la pallavolta